Scherzo eh? Buongiorno Filippo Favuzza, pediatra dell'ospedale di Erba, l'abbiamo incontrato già qualche settimana fa e poi e poi e poi la gente ha detto ma fallo ritornare perché è bravo, perché spiega bene, perché dice che ok le albergie allora Filippo è tornato purtroppo che ha avuto un po' di problemi per trovare parcheggio ma va bene però ci siamo Filippo buongiorno Ciao Marco, buongiorno a tutti, ascolto Buongiorno, grazie di essere venuto qui sono in linea con quello che dicevi, mi sono cuccato il traffico ma va mi muovo a piedi, ho bisogno della macchina ho subito il traffico a lungo lago devo dire che è stata sicuramente una puntata molto interessante facciamo un'aggiunta va di quello che ci hai detto e allora domanda, visto che al mattino fa freddo, poi al pomeriggio fa caldo quindi è una stagione un po' così e siamo ancora però nel periodo critico sì, allora, è chiaro che gli sbalzi di temperatura ma molto mettono un po' l'imbarazzo sia alle famiglie e di conseguenza anche noi pediatri veniamo spesso intercettati per i raffreddamenti ci si veste, cioè quel luogo comune del vestirsi a cipolla eh certamente, certamente dottore diciamo che essere umidi, l'umido del sudore o dell'umidità, diciamo del bagnato da pioggia non va bene quindi consiglio è quello sempre di tenere il bimbo molto asciutto perché è chiaro che questo facilita i raffreddamenti poi chiaramente, come ho detto l'altra volta per distinguere il raffreddamento comune di allergie dipende dal tipo di starnutazione, di sintomi che hai quindi un'arenita allergica classicamente si distingue perché il bimbo starnutisce come se avesse una pistola al naso, colpi di pistola a salve si dice continua a starnutire 10, 15, 20 volte e si gratta, si gratta tantissimo se questa sintomatologia dura questo è un segnale tipico, tipico dell'arenita allergica il bambino che ha un raffreddore comune starnutisce due o tre volte magari più volte al giorno mette l'arenita allergica mette l'arenita allergica hai questi colpi di... ripetuti? ripetuti, sì sì, come se fosse un colpo di... mi sono ripetuti, a salve, nel senso è ciu, è ciu, è ciu, più volte al giorno per più settimane cioè quello che ti fa distinguere nel periodo della pollinosi che praticamente è quello maggiore e inizia adesso tu hai il bimbo che starnutisce per due settimane, per tre settimane e con i comuni antinfiammatori l'arenita rompasse e poi l'altra caratteristica tipica è il prurito cioè il bimbo che ha l'arenita si tocca il naso, si tocca gli occhi si starnutisce spesso poi c'è anche una familiarità come dicevamo o di un genitore o di tutte e due ecco questo, allora, periodo certamente ancora non fa facile, abbiamo già detto che cosa poter fare dottor Favuzza le allergie si curano un po' con la prevenzione lì è possibile un po' con gli acari e la polvere che diciamo, abbiamo detto l'altra volta sono questi ragnetti invisibili che vengono nel materasso quindi laddove troviamo un'allergia ai acari diciamo di bonificare al materasso per i polli invece possiamo fare poco esatto quindi terapia medica ma diciamo noi allergologi spingiamo molto la terapia immunitaria quella che comunemente viene chiamato vaccino per l'allergia in realtà non è un vaccino come spiega l'altra volta nel senso classico del termine ma è una terapia desensibilizzante cioè tu sei allergico ai pollini e alle graminacee adesso decide di darti delle gocce sotto la lingua tutti i giorni per anni e questo desensibilizza il corpo cioè fa produrre al corpo anticorpi diretti contro gli anticorpi e le allergie e tollere meglio i pollini è una terapia molto efficace andrebbe iniziata nella prima decca di vita perché nella maggior parte dei casi alla prima diagnosi il bimbo ha un'allergia invece se tu lasci la stessa allergia spesso poi nella spesso una percentuale che può arrivare anche al 30% nella seconda decca di vita sviluppi altre allergie quindi è molto importante sia per la cura ma anche per la prevenzione ok ecco se ne possono sviluppare di più quindi è corretto giusto questa cosa? più dalla seconda decca di vita impori per questo è importante intercettare le forti allergie nella prima decca di vita in modo tale che poi puoi anche fare un'opera sia di cura ma anche di prevenzione rispetto al futuro ah ok perfetto questo è molto importante e allora saluto anche i nostri amici che sono con noi questa mattina in diretta il dottor Favuzza che è tornato qua da noi a Ciacomo di mattina per presentare, per rispiegare insomma questo che è un po' è un tema importante perché poi ecco lo dicevamo anche la volta scorsa dopodiché e ne abbiamo parlato anche con altri tuoi colleghi Filippo c'è a volte quella corsa un po' forse a volte esagerata anche negli ospedali quando ci sono dei sintomi un po' particolari e tu la volta scorsa hai detto calma calma, calma ecco il che non vuol dire, sia chiaro sottovalutare le cose che facevi riferimento ecco le facevi riferimento la differenza dico sempre è soggettiva noi cerchiamo nei pediatri, i specialisti, il pediatra di libera scelta fare il possibile educazione sanitaria e capire quali sono un po' i momenti critici di una sintomatologia no, anche perché sennò ti ritrovi pronto soccorso intasato o anche gli ambulatori allergologici la fisi allergologica ha una prestazione molto richiesta sia in età pediatrica che in età adulta però spesso magari l'invio non è correttissimo insomma c'è una nostra scuola che ci ha scritto anche su Messenger e ci chiede se c'è un'età entro la quale poter fare magari degli accertamenti per il bimbo è una domanda frequente non c'è in realtà un'età tu puoi trovare una possibilità anche a un anno di vita diciamo che le allergie respiratorie sono un po' più frequenti dopo i 4-6 anni di età quindi più verso l'età scolare le alimentari invece si manifestano l'avevo detto l'altra volta con le allergie anche con l'anafilassi nei primi anni di vita quindi quelle respiratorie più dopo i 4-6 anni però i test si possono fare anche a 2 anni di età cioè se io ho un bimbo con quei sintomi con la rinita o con un asma per esempio frequente specialmente se c'è una famiglia allergica posso farli anche già a 2 anni, a 3 anni non c'è un'età c'è una sintomatologia suggestiva dove per suggestiva intendo sintomi caratteristici e persistenza nelle settimane è un'indicazione a fare i test poi magari sono negativi e le ripeti nel tempo soprattutto ricordiamo che se un bimbo è fio di un genitore allergico ha un rischio del 30% che sale al 60-70% se tutti e due sono allergici è quasi praticamente scopo è quasi sempre no nel senso è quasi certo poi attenzione sempre anche io dico dei numeri che devono essere interpretati cioè con manifestazioni diverse il papà può avere un asma il bambino ha solo una semplice rinita poi la sintomatologia è più morta sì però è corretto dire che se i genitori hanno dei sintomi allergici è verosimile che anche il bimbo possa sviluppare è molto il genitore stesso che lo dice secondo me come me c'ha l'asma, c'ha la rinita ah ok perfetto questo è molto importante quindi abbiamo anche dato queste spiegazioni di come poter intervenire con queste gocce dicevi Filippo che sono in Italia non ne facciamo molto perché non tutti i scenti la fanno allergologici ma è una terapia ormai diffusa da 30 anni funziona? funziona molto bene anche perché oggi con un piccolo prelievo del sangue quindi un piccolo fastidio del bimbo ci dà tante informazioni facciamo un profilo biologico molto preciso e in base a quello diamo una terapia molto mirata con la terapia vaccinica perché spesso il ritorno dei genitori allergici quando propongo il vaccino ai bimbi mi dicono dottore ma guardi che io l'ho provato 30 anni fa non funzionava non si fanno più queste terapie per esempio sull'esito del test al braccio che è il primo livello esatto oggi per fare un vaccino facciamo questo prelievo è un piccolo fastidio per il bimbo abbiamo ovviamente in ambiente pediatrico tutte le cure del caso crevini antisensitizzanti locali questo piccolo prelievo ci dà molte informazioni biologiche in modo tale da fare un profilo biologico molto preciso quindi la terapia è più mirata e più adatta al bambino si chiama medicina di precisione il nostro scontore dice che c'è scritto che lei è sempre rassicurante e devo dire che in effetti beh sì anche perché il ruolo credo no dottore cerco di dare poche notizie ma precise no poche no però rassicuranti sì soprattutto per appunto cercare di dare dei consigli suggerimenti importanti Gianfranco e Roberto ci salutano anche loro buongiorno grazie come sempre di essere con noi e con il dottore con il pediatra meglio che ci ha dato questi suggerimenti certamente molto importanti fino a quando dottore la stagione diciamo così a rischio per per le allergie per i pollini soprattutto lo dicevano un'altra volta ha a che fare con il discorso dei cambiamenti climatici una volta erano più catalogate oggi invece con le stagioni più lunghe per sempre sì praticamente un allergico per sempre no però un allergico alle graminacee mentre prima aveva sintomi che so da aprile maggio a luglio oggi magari c'è la fine agosto a settembre dipende molto dalla meteorologia infatti consiglio sempre ai pazienti di scaricare queste app dove addirittura ti dice un po' la concentrazione dei pollini perché sono dei giorni veramente dove i pazienti in base a quei calendari devono magari farsi più farmaci perché stanno davvero male addirittura ci possono essere anche sovrapposizioni di pollini questo per esempio è un periodo in cui stanno finendo le betulle inizia la graminacee quindi un paziente che ha entrambi le sensibilizzazioni poverino sta davvero male ok perfetto va bene direi che ci fermiamo qui dottore perché siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento è sempre un piacere e magari ritornerai ancora a farci compagnia perché davvero è stato piacevolissimo molto bene dottor Filippo Favuzza con noi quest'oggi è ospedale di erba e però appunto ha scelto di venire qua da noi in questi giorni proprio per fare questo incontro